No, ma no, 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 non ci credo, non ci credo, venga, non ci credo, cioè, non ci credo, non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere Ok ragazzi, bentornati con un'altra bella parte del nostro bellissimo Hunt Showdown Vi ricordo che sabato sarò in live con questo gioco su Twitch, trovate il link in descrizione del video Noi ci spariamo un'altra partita, stavolta invece ci spariamo la classica partita cacciatore d'Italia, però stavo pensando di fare a tre giocatori, mi sa, gruppi di tre giocatori Ci facciamo così, ci spariamo una partita con tre giocatori e vediamo chi ci capita, perché sapete, ho una voglia amata di perdere il personaggio Oh mio dio, una è di rango 87? Wow, sorella strana, poi io sono pronto, ok siamo dentro e c'è già un problema È notte Eh beh, dai vicino Oh, la torcia non ce l'ho, insomma Questo fucile comunque mi ha regalato gioie Spero mi possa regalare gioie tuttora Ma ho sbaglio o... Vabbè, non è una mappa nuova, credo sia, sì, era sempre la stessa, solo che Il nuovo punto di respawno questa zona l'ho mai visitata Vabbè Problema risolto Ottimo Allora ragazzi, un'altra cosa importante, devono aggiungere delle cose nuove Ho letto che dovranno aggiungere mostri nuovi, armi nuove, cacciatori nuove, quindi comunque Lo supporteranno e ciò mi sta più che bene, perché mi piace molto Fino ad ora mi sta divertendo comunque, anche se mi ritrovo a fare sempre le stesse cose, più o meno Mi diverte, perché è imprevedibile, quel brivido di perdere il carciatore E poi vedo che piace molto anche a voi, quindi io continuo a portarvelo In attesa di nuove serie Poi se mi piace avevo portarvelo fino all'infinito potrebbe diventare questo il nuovo DayZ Dove cazzo sto andando anch'io? Comunque il fatto di non avere una torcia mi fa veramente girare gli zbadei Ho visto che anche la puntata di ieri vi è piaciuta Dove abbiamo fatto quella specie di, praticamente Battle Royale, più o meno Ho visto che vi è piaciuto, quindi mi porterò Anche quella, faccio un po', è un po' Fillebac, assa Passiamo Ma che cazzo spada? Grande, mi ha fatto levare un botto di vita Pezzo di idiota Dove cazzo sono caduto? Ah, c'è su Maria C'è un kit in me vicinanza, almeno hai vinto tutti i miei? Sì, ma guardali come sono sparsi Kit, aspetta Ok Vedete, fate sempre un girettino attorno a voi Magari c'è sempre qualcosina Per curarvi Comunque anche la modalità Team Beat Match Non è male, sinceramente mi è piaciuta E dovrei cambiare il tipo di fucile però Questo è bello perché spara veloce Però la potenza d'arresto non è il massimo Mi ricordo che con le specie di vecchie ciabatte Che mi lanciavano le locuste Le uccidevo con un colpo Con l'altro fucile Con due a quel po' Ecco, questo è un po' Ecco Vado Guarda la mia mira Orca droia Guarda che ci sono loro Vabbè, io sparo sul cadavere Ma dov'è l'altro indizio? Non è che contro Ah, ecco qua Ok, quindi praticamente in tre dovremmo uccidere il ragno Traf, semplicissimo L'aracnide rimane il mio preferito Bene, l'hanno già ucciso Perfetto Quindi sono solo i cacciatori adesso Io vorrei affrontare il macellaio Il macellaio è quello più tosto secondo me da buttare giù Subisce un bordello di colpi E lui sentivo Eh, infatti Quelli sto puntando Qua Mi sembra che sono alla chiesa Perché è buio pesto Non si vede un cacchio Mi fido di voi Mi fido della vostra mira Perché la mia fa ancora schifo Mi piace la mia mira Porca bagassa Ma con la merda dove ne è sbucata fuori Oh, perché per una spada Manca un colpo Niente pezzo di merda Ma ho bisogno No, non ho bisogno della silinghina Figlio Della malora È morto qualcuno Aspetta eh E dai Minca Cioè Veramente Guarda Morti tutti? Morti tutti? Tutti morti E io non ho parole Io non ho parole Guarda Vorrei urlare Ma non urlo Sono diventata una persona più buona Ok, è arrivato il personaggio nuovo Yeah, un'altra partita Altri punti che se ne vanno Fortuna che praticamente se vi Appena comprate il gioco E fatte praticamente L'account Crytek Vi danno Diecimila Partono di sinistra Lasciata la squadra Un pezzo di merda Vi danno Diecimila monede Eh ma me la mettete tutti in culo Boh Ma che è? Sono di rango 42 Ma porca puttana Ma mi perdono in giro? Mo molla anche lui Guarda eh Andiamo assieme Andiamo assieme E cazzo ci frega Mi sono reso conto Che abbiamo fatto una stronzata Siamo in due Contro squadre di tre Però vabbè Prima eravamo tre contro tre Eppure l'abbiamo presa Lo stesso nel culo Che morco giudo Stai andando a fuoco Dai davvero Le fiamme Guarda non erano mica Un suggerimento Pensavo ci fosse qualcuno Comunque sì Ho preso una roba nuova Che sono queste Che sono praticamente Delle mine No non sono queste Queste Sono esplosivi Di affilo Sai Tipo le mine Inciampo Diciamo che mi gerbano assai Potrei piazzare Oh Gesù Maria A te Comerco Arrivo Arrivo Mi smiccol Arrivo smiccol No Ok Oh vedete che il cazzo Il segnale È in ritardo Credo che Avendo messo il Il server secondario Su Oceania Forse non è il massimo Che tipo Cerca prima il server in Europa Se ne trova uno vicino Va di server secondario Ma non credo Abbiamo trovato un server in Europa Oh merda Guardate quella roba lì Mi dimentico sempre Che sto fucile È potente Perché è potente Ha un ottimo potere D'arresto Il problema È che Beh C'ha un proiettile E diciamo che I primi 3-4 colpi Li manco sempre Peta Peta Ok Dai 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 ce lo chiudiamo A sandwich Ma che cazzo Può tagliarmi pure lui Non lo sapevo Oddio Possiamo ferirci null'altro Pensavo non ci fosse Il fuoco amico Oh mio dio C'è il fuoco amico Non ci credo Ce ne sono Uno e due Non riesco a beccare Più il macellaio Raga Cioè credo che sia Quello che voglio far vedere Di più perché l'arachnida L'abbiamo già beccato Più volte Il macellaio Cioè o l'ho beccato Da morto Quasi morto Cioè non l'abbiamo mai beccato Proprio avevamo la possibilità Di 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 ucciderlo Dall'inizio Con tranquillità Ok Sono Ben due zone Molto vicine Però Di là Mi sa che c'è qualcuno Oh Gesù Maria Ti Segui i cani Sméagol Puoi aiutarmi Puoi aiutarmi Puoi aiutarmi Aspetta che mi curo Gesù Cristo Sti cani veramente Sono la merda Ma non si è accorto di me Ma che cazzo Cosa C'è C'è Cosa La lancio io Non ammazzo nessuno La lancio da me Muoio subito All'istante No vabbè Minchia la laga Mi fa troppo girare Il cazzo Vabbè Io ormai Non ho Nessuna Non ci credo Tanto cosa farà lui Non ho Camminare così Credo sia la cosa peggiore Se ormai Sì uno scontrafuoco Non lo sanno che ci sei Ma che non siano idioti No comunque cambio fucile No veramente Ragazzi Non so più che cazzo di fucile prendere Porca puttana Perché magari becco quel fucile In cui lo centro Ma fa poco danno E non lo stecco Poi fucili a canne mozza Che non fanno un cazzo Praticamente Cioè Disparare due colpi A distanza ravvicinata Per ammazzarlo Vabbè altro Oddio Oddio ce la fa Ce la fa Vabbè E l'altro pezzo di vita Non lo recupero più L'altro pezzo di vita È andato perduto per sempre Perché sono morto Non lo so Ah lì ok Marcatro è una persona quella L'ho preso Nooo Mica ma che cazzo Ci aveva questa specie Mi sembrava Io mi sparo Oppure che anche il mio partner Si prende una pallotola Ma troppo guarda Ci su Maria La finestra Non c'è ancora quello Non ci credo Signor Cristo Eh 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 File bagassa No Non me lo rischio Va Oddio C'è chi L'ho presa È andata lì La tua vita al massimo Ma dove Mi mancano due tacche Aspetta che ricarico Oddio Scontro fantasmagorico Bello Non c'è dato niente Ha sentito la tensione palpabile Quella merda è lì sotto Allora Secondo me vuole passare Merda Buonanotte amico Buonanotte amico Eh Che scontro Fra stronzi Mica Ma che tu Mi hai rotto Veramente i coglioni Eh Ah No No Ma porca droga Tutte le armi La scarica Ma vai a fare il culo Va Mai più Fucile del genere Tanto Ma vai a portare il culo Vaffanculo Oh Mica Con questi cazzo Di cacciatori Si arriva sempre A scontro A media distanza Basta Cambio arma Mi sono rotti i coglioni Cioè a breve distanza Ma lo ritrovo sempre attaccato al culo Ogni volta Mi ritrovo io lì Con quel fucile di merda Ah cioè che è di beccalo Quando posso prendere un fucile a pompa Qualcosa del genere Ma vaffanculo va Cioè io voglio prendere questo adesso Adesso io metto questo cazzo Di fucilone C'ha due colpi In canna Ma se lo prendo A media distanza Lo stendo Porca droga Lo sdraio Non è frega niente La pistola Rimetto quella di prima Perché Ci sta questa pistola Quando sblocco Quell'altra Che c'ha Un milione di proiettili Guarda Sarà il top Comunque Sono stato Un cretino Di merda Perché potevo Piazzare le mine terrestri Praticamente Ah Questa è una mina Concertina Praticamente tipo Esce il Una volta che scatta Praticamente Sbuca fuori Il filo spinato E inonda Una parte Di quella zona Ed è Fattibile Ci sta Conti il da lancio Wow Ma lasciamo stare Perché tanto Già ho una mira di merda Con quella Con la pistola Con il fucile Figuriamoci Ho lanciato E questa roba Candelotto di Candelotto di dinamite Cerato La detonazione Sott'acqua No Non lo prendo Io tanto Ok ci siamo Questa qui Che è un figo Il vestito Oh merda Fatta la sua pistola È quella che vorrei io Shit La avremo un giorno La avremo Allora bene Perché c'è Il macellaio E l'assassino Benissimo Comunque ho letto Che sono Un totale Di 12 giocatori A partita 12 Quindi Compresi noi Ci sono Altri 10 Cretini A spasso Che non sono tanti Però mi sarebbe Mi sarebbe Piaciuto Se avessero messo Almeno Tipo il conteggio Dei giocatori Che poi c'è Però non lo trovo Non lo so Cioè voglio la lista Dei giocatori Per vedere Chi vive E chi no Oh merda Sofri Va bene Bello Bella la tua Sosferenza Oh Sto facendo giro Uh Ah Ah Perci Richiuditi Ecco il mostro Il bagasse Muori Ma cazzo è qua? Perché sta lottando lui Non lo so Ecco qui Guarda no Un po' più nascosto Ciao bello Muori Porca bagassa Ma quanto cazzo C'è in prima Che morire? Guarda L'ho beccato Un botto di volte Che cazzo Ok Prossimo Da quella parte Ma anche da quella parte Ok allora Dove stavamo controllando prima? Ok da quella parte Devo sdragliare questo Si ma Sto pezzo di merda Ancora è vivo? Ma Gesù Cristo Grazie dell'aiuto amico Grazie Grazie mille Grazie Grazie mille Bene Oh Sto fucile C'ha tipo un danno Pazzesco Ma da vicino Non fa un cazzo Siccome devono rivedere La roba dei danni Non è Non è fattibile E anche sta roba Che tipo Lo colpisco Subisce dopo Il colpo E via Un ritardo Nella risposta Dei colpi Eh Fatelo tu questo Altro indizio Esattamente Da quella parte Che avrei bisogno Di un kit Qualcosa del genere C'ho la siringa Ma Ne Non me la sparo Per il caso Che Quello Lo possiamo buttare giù Degli ultimi Rumorini Ottimi Rumori Di spari Oh Signore Ma c'è sempre Questo stronzo A guardia Vai a cagare Smeagol Dobbiamo andare Il boss È lì Stiamo per Beccare Di nuovo L'assassino Vacca la merda Che palle Allora Io ho pochi Colpi Ma come subisce Il danno in realtà Eh Minca Dammi che Minchia Devo proiettili Due proietti Da una cassa gigante Siamo Oh Gesù Ma era fake No Non era quello vero E basta con ste blatte Di merda Eccolo Eccolo E caga Da merda Più o meno Io ho finito i colpi Mi vuoi aiutare Testa di merda Potrà Potrà prendere Nel culo Va Allora Lassa lui Cioè guarda 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 La troia Le blattine Mi ricordate Quando io ho preso Il tuo fucile Non so perché Quell'altro Tadano ha spasso Abbiamo lavoro Da fare Hai subito i colpi Ok Gli ultimi due proiettili Ah Lui che rispara Gli ultimi due proiettili Vedi stronzo Oh merda Si Ok Allora La tattica E Non c'è nessuna Tattica Tecnicamente Sarebbe meglio Mettere delle Delle trappole Il problema Che non so Dove Ascolto Mi metto Due trappole Per una volta Le piazzo Almeno Non le ho prese Inutilmente Così La grande Ah l'ho già messa Ok Oddio Mi sa che si è fatto male Da solo Quell'idiota Ok Un'altra Piazzata Benissimo Ora tocca Se lo spregano Non passino Dalle fine Perché se no Ci fregano Ho sentito Una molotov Oh no Amico Spensa Putta Merda E vai a fare In culo Cazzo Cazzo però Finti colpi No Eh si Amico Siamo Siamo venuti Partito La trappola Partito La trappola Zio Curati Oh mio dio La porta Potremmo chiudere Shit Aspetta Vai c'ha munizioni Ma che cazzo ne so No Madonna No No Non ci credo Non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ti frega dalla finestra Minimo Guarda Eccolo Guarda 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 Dio Cristo Minca Cioè E' veramente allucinante Ma è allucinante E' male Gesù Maria Il mio corpo Che va a fuoco Il mio cadavere Che va a fuoco No vabbè Partite pazzesche Cristo Santo Ma sei serio Roba da pazze Ho assistito Roba da matti Porca Porca troia No No vabbè No No forse ce l'abbiamo ancora Le Da qua non possiamo passare No 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 C'è ancora qualcuno Eh non è morto Non ci credo No perché non spara Perché non spara Non ricaricava Non ricaricava No vabbè Dai Vai a fanculo Cioè non ricaricava Capito Metteva tipo il caricatore Ma poi non faceva un cazzo No vabbè Dai Non ho parole Io non ho parole Non ho parole Non ho parole Poi a 300 C'erano di cacciatori C'è vera Mai più quel fottuto Fucile da stronzi Ok sono qui Con mister baffone Vediamo se il server Solo dall'Europa Mi eviterà Questi problemini Di ritardo Nella risposta Dei Ok bene Passiamo il test Porca merda Lo vuoi Ma mi prendete il culo Cioè non riuscivo A mettere il coltello Vabbè Primi problemi Vediamo Test numero uno Ecco Allora il server dall'Europa Sicuramente prendeva poi Il server dall'altra parte Eh non è il massimo Quindi server dall'Europa Tutta la vita Ciao signore E qui il party Uh guarda che bello Andiamo Andiamo Non è possibile trasportare altro Beh Insomma che cazzo c'era Ok Ah cuccia Chi mette dislike Il video È sicuramente un amante Di cavalli È anche un amante Del cazzo Barattolo Oh guarda C'è qualcuno dietro Grazie E questo te l'aiuto E questo te l'aiuto Somma io Va a vedere Oh sono molto vicini Però stiamo ribeccando L'aracnid Non voglio L'aracnidilino Comunque dobbiamo completare Anche gli altri obiettivi Tipo Uccidere 15 colossi di carne E roba del genere Perché mi dà punti Solo che mica Evito il contatto Con i mostri Se Non è strettamente necessario C'è su un mario Oh vedete che non metto il coltello Scusa ma se premo così Non lo metto Vedete il tirapugni Vabbè Fa niente Anche il tirapugni va bene In realtà Perché consuma poco E poi gli dati Gli dati quei Puni cazzuti Belli Guarda eh Guarda Anan Z Tornando a noi Oh no Qui siamo morti Prima Brutti ricordi Oh shit Non posso salire Guarda Vai 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 Cazzo Vai che non ho un kit Porca puttana Vecchia maltracca Sto giocando in modo rischioso E non furbo This is not Ver Ma dov'era? Era quella? Ok andiamo Andiamo Che cazzo ci facciamo qua? Non so quello qua Stia facendo No Potevi anche non farlo Guarda che bello Guarda che bello Giccio dietro Non so perché non l'ha colpito Ma l'avete visto? C'è Oh cristo C'è bellissimo Che gli ha andato addosso Ha visto me Ha visto me Ha guardato me E mi è venuto addosso Boh C'è cosa sono io? Scusa Sono stranzo io Mi li becco tutti io Ok dov'è il ragno? Oh fai un incubo da quella parte Vabbè che alla fine sono due tacchettine Però sono quelle due tacchettine Che ti salvano il culo Quindi io direi di No dai Resistiamo Resistiamo Mi sa che in questa torre Forse c'è qualcosa Ciao bello Atta 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 Ah Cribbio Ho fatto cagare Quello si è trovato davanti Cazzo Eat dish Eat dish Che cosa ho trovato davanti al buio Qua Ok Ok c'è una di quelle merda È tipo qua Oh merda Proprio qui Ah Ma vai a caga Ma scusa indizio Ma che cazzo Ma perché Ma io non voglio questo Voglio andare Ma dal moto Ma dovevo guardare la mappa È da quella parte Ok c'è che esplode Ma perché Tipo a loro non esplode No Non venire da me Pezzo di merda Oh merda Oh merda No Oh no Non è stato il rituale dell'assassino Oddio dimmi che stanno facendo il giro No Ma scusa Dove cazzo è il ragno E' di fronte a noi Andiamo Fanculo sta merda Zio Muoviti Non ho tanto tempo No Vabbè sta morendo Vabbè quel po' mio Che l'ho lasciato anche solo Però Non ci credo È morto Ci posso credere Caduto a terra come una merda Oddio In che mondo non l'ho presa Smigo all'arrivo Oddio Giuro che per un attimo Mi è sembrato di sentire qualcuno Che camminava covacciato Ma forse sono quelle Anatre Papele Eccetera eccetera Oh dai però Andiamo È un peccato che tipo La maggior parte dei giocatori Praticamente Non utilizzino Il microfono attivo Immaginatevi le risate A sentire Questo che urlava Magari Tipo Che ha le prime armi Vede il ragnetto Che si incresa Zio ci si Cioè ma mi spiegate perché Ma non conosci il tasto per correre Questo qua Vediamo Ciao Bera Ragnetto Eccolo 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 Il coccolino Vediamo Il pezzo di verde Mi piace Ti piace la coccolina Oh Gesù Oh 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 Amico Sparagli Vai a quella colpita almeno Eh amico La tua pistolina silenziata Ma cosa cazzo vuoi fare Dove vuoi andare Aspetta La merda Secchissima La merda Ciccio Ce li hai lì Bella lì Ah l'ho bruciato Alla fine L'ho bruciato Porca Cautana Minchia lancia le cose in ritardo Regà Non sono io che tipo Che so Premo in ritardo No no Io l'ho fatto solo che è proprio lento a tirare Dovete farlo con un largo anticipo Lui è furbo Che stiene vicino all'uscita Grazie Faccio One shot Chica T'ho salvato Il culo Dio sto bel ragione Di chi è sto bel ragione Ancora mi arriva Ah Gesù ma li è impazzito Arriva da te A me A me A me A me A me A me Sempre a me Sempre a me Fammi passare Che mi ha colpito Sempre a me Viene a rompere Oh raga Sempre a me E qua adesso finisce Il vaccino Sì Il vaccino del coronavirus Ecco Mi faccio bene Mi recupero Tutta l'energia No neo Grazie È bello Grazie Ti ringrazio Ma C'è Grazie È stato Carino In più tipo Mette un colpo in canna E ne rimane sempre uno Che manca nel caricatore È una cosa che odia In un modo L'altro deve finire In un modo L'altro È morto Scusa Ho sentito il rumore Di Molotov Non mi sbaglio Cristo santo Ho rischiato proprio Groshan eh In realtà io C'ho le trappole Cazzute Potrei usarle È che ci sono troppe entrate Da cui possono passare Ovviamente troppe Ciccio pigliatela stavolta La ricompensa Chiunque tu sia Ma che ve lo sappia Dai Presa Oh bravo Adesso Ah vedete Me lo segna pure Il partner L'ha preso da taglio Ci siamo quasi Ci siamo Almost Oh merda Andiamo Non solo No Ma cosa Ok Ah deve essere Che l'ha colpito Non credo Che l'abbiano sparato Credo L'abbia colpito La donna Vespa Eh però Ha rotto Tre quarti di minchia Andiamo Andiamo Basta perdere Tempo Cincischiare Dai Andata Farai dei puntini Tranquillo Ah ma Non viene nessuno Ormai Ding 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 Benissimo Ragazzi Spero che anche Questa parte Vi sia piaciute Spaccate di like E ci vediamo Con la seconda parte Domani non so Se arriverà una parte Verso le 17 18 più o meno Ma comunque sia Domani che è sabato Ci vediamo per live Delle ore 14.30 15 più o meno Su twitch Mi raccomando Su twitch ragazzi Venite venite Che giochiamo Ad anti showdown E vediamo di Di sclerare Tutti assieme Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi